Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi ho due rapidissime notizie da darvi la prima è questa è tornato il Black Friday di iRacing ragazzi quindi per chi volesse rinnovare in anticipo il proprio abbonamento per chi volesse riattivare un abbonamento che magari non hanno rinnovato iRacing come di consueto in questo periodo vi offre il 25% di sconto e per i nuovi offre una scontistica del 50% ragazzi io ve lo dico qui sotto c'è il mio link referral se volete passare da lì passate da lì a me mi riconoscono una fesseria a voi non cambia nulla quindi vi ringrazio anticipatamente e passiamo invece a un'altra notizia invece che ha del positivo e del negativo questo è il comunicato stampa di Digital Bros ragazzi che parla di Assetto Corsa Competizione per la stagione 2024 che annunciano che hanno praticamente la licenza delle 24 ore del leggendario circuito Nurburgring che uscirà nella primavera 2024 che Kunos sta sviluppando e completando il nuovo DLC per PC e per console ma di conseguenza l'uscita di Assetto Corsa 2 è stato posticipato all'estate 2024 quindi c'è del bene per gli amanti di Assetto Corsa Competizione perché la nuova stagione 2024 appunto è sotto lavorazione e purtroppo il rinvio di Assetto Corsa 2 che tutti quanti stiamo aspettando perché visto le statistiche del sondaggio che ha fatto Race Department in questi ultimi mesi il più atteso è proprio lui Assetto Corsa 2 detto ciò ragazzi un piccolo annuncio per chi ci segue sai i problemi tecnici che abbiamo avuto per quanto riguarda la live e il server del campionato BTCC per la terza cara avevamo annunciato che sarebbe stato questo venerdì invece sarà il venerdì ancora dopo quindi tra meno di 15 giorni quindi ragazzi se questo breve video con queste due novità vi è piaciuto come al solito pollice in su non esitate a lasciare un commento iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo come al solito prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao